Emergenza coronavirus. Ieri accertati altri otto casi a fronte di ben 602 tamponi analizzati. Sale a 245 il numero dei lucani attualmente positivi al covid-19, ma aumenta anche il numero dei guariti. Al termine dell'emergenza sanitaria l'ospedale di Venosa non sarà più struttura covid e sarà potenziato la soddisfazione del sindaco Giovanni dopo l'annuncio della regione. In vista dell'avvio della fase 2 il premier Conte annuncia per questo fine settimana la definizione del piano per le riaperture del 4 maggio. Ci saranno aperture calibrate sull'andamento del contagio nelle diverse regioni. E proprio in vista della ripartenza delle attività produttive la CISR lancia l'allarme e servono non meno di 120.000 mascherine al giorno. Il governo ufficializza il rinvio delle elezioni amministrative. In Basilicata coinvolti una ventina di comuni a partire da Matera. Buon pomeriggio e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione dalla Basilicata. In apertura di questa edizione come sempre tutti gli aggiornamenti legati all'emergenza coronavirus. Torna a salire leggermente il numero dei contagi in Basilicata. 8 i nuovi casi accertati a fronte del record di tamponi processati in un giorno. Ben 602. Aumenta anche il numero delle persone guarite ma facciamo il punto con Michelangelo Russo. 8 contagi in più rispetto al giorno zero su Ben 602 tamponi processati. Superati 7.000 esaminati in tutta la regione. C'è un caso nuovo a Potenza dove è stato trovato positivo un autista del 118. A Calvera ha contagiato un quarantenne residente a Senise, paziente della casa alloggio di Vallina. Una residenza psichiatrica dove sono state registrate anche 19 negatività. Torna la paura in Valdagri dove sono state trovate positive due infermiere di Vigiano e Gallicchio. Nel primo caso ci sono voluti ben quattro tamponi prima di rilevarne la positività. Dopo qualche giorno di tregua il virus torna a colpire anche la città di Matera. Ben tre casi nei sassi. Dall'inizio della pandemia sono 65 gli affetti da coronavirus attribuiti alla città capitale europea della cultura contro i 70 del capoluogo di regione. A Rio Nero invece sentimenti contrastanti per via di un dimesso dal San Carlo ma anche di un nuovo caso comunicato dalla Task Force. Cinque le persone guarite ieri di contro da Pescopagano a Francavilla e Salandra fino a Castelluccio inferiore le comunità locali tirano un sospiro di sollievo per gli esiti negativi che riguardano ospiti, pazienti e operatori di una casa di riposo e due RSA. Mentre nel comune della Valle del Noce erano rientrati nella notte tra sabato e domenica scorsi tre ragazzi di origini romene partiti dal Veneto ma i tamponi ai quali sono stati sottoposti sono risultati negativi. Rispetto a ieri sera il dato resta quindi invariato. Sempre 245 i casi attivi su tutto il territorio lucano più quelli concernenti gli otto pazienti diagnosticati in altre regioni, residenti in Basilicata e ancora in isolamento domiciliare. Nessun decesso per fortuna. 71 i ricoverati ma soltanto in sette si trovano sotto stretta osservazione nei due reparti di terapia intensiva al San Carlo e al Madonna delle Grazie. L'ospedale di Venosa tornerà ad avere i suoi servizi ed emergenza finita non sarà più struttura Covid. La regione fa retromarcia e il sindaco Giovanni può sorridere come ci spiega Celestino Benedetto. Non appena inizierà il montaggio degli ospedali da campo e ad emergenza terminata sarà possibile ripristinare i servizi sanitari dell'ospedale di Venosa fermo restando che le prestazioni ambulatoriali non riprenderanno prima della scadenza prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero dopo il 4 maggio. L'annuncio è arrivato al termine di un incontro tra l'assessore Leone, il sindaco Giovanni e il consigliere regionale Leggieri. Il San Francesco era stato individuato a seguito dell'emergenza da coronavirus quale struttura adatta ad essere trasformata in ospedale Covid. Tale scelta che nelle scorse settimane aveva portato allo svuotamento dei servizi aveva destato forte preoccupazione nella popolazione che vedeva da una parte il venermeno di servizi essenziali e dall'altra la paura che finita l'emergenza gli stessi servizi non sarebbero più ripristinati. È stata dura un'emergenza nell'emergenza, ha detto il sindaco, ma ora non è il tempo delle polemiche. Venerdì intanto si terrà una videoconferenza con tutto il Consiglio Comunale di Venosa. Il neo-amministratore unico dell'Ater di Matera, Lucrezia Guida, ha disposto la sospensione dei canoni di locazione per il periodo marzo-maggio 2020 alla luce dell'emergenza sanitaria in corso. In questo particolare momento ha evidenziato Guida un ritenuto doveroso andare incontro alle esigenze dei cittadini che fruiscono degli immobili Ater, sia ad uso abitativo che commerciale, soprattutto perché l'utenza è notoriamente rappresentata da ceti meno abbienti. In questi giorni l'Ater di Matera si farà portavoce presso gli uffici preposti della regione Basilicata per cercare di ottenere ulteriori forme di aiuto a sostegno dei lucani residenti negli alloggi popolari. Intanto il Governo è sempre al lavoro per l'avvio della cosiddetta fase 2. Il Premier Conte blocca la fuga in avanti di alcune regioni e dice no ad aperture. Prima del 4 maggio possibili invece provvedimenti calibrati sull'andamento del contagio nelle singole regioni. Il servizio è di Mara Risola. Ripartenza non prima del 4 maggio. Regioni allineate ad un programma nazionale senza fuga in avanti, anche da parte di quelle che come Basilicata e Umbria potrebbero consolidare per prima il traguardo dello zero contagi. È la base di partenza del programma che il Governo ha inteso strutturare per affrontare la cosiddetta fase 2. Un programma sul quale il Governo sta lavorando in accordo con gli esperti e che guarda in particolar modo alla programmazione della ripresa delle attività industriali e a quella del sistema dei trasporti. Questo programma deve avere un'impronta nazionale, ha evidenziato il Premier Conte in un post sui social. Offrire una riorganizzazione del lavoro, un ripensamento delle modalità di trasporto, nuove regole per le attività commerciali. Dobbiamo agire sulla base di un programma che tenga però conto delle peculiarità territoriali, perché le caratteristiche e le modalità del trasporto in Basilicata non sono le stesse che in Lombardia. Perciò massima collaborazione tra Regioni e Governo, fermo restando la possibilità di programmare di concerto con Palazzo Chigi le tappe della riapertura attraverso misure cucite addosso alle realtà locali, con maglie più strette al nord rispetto alle Regioni del Sud. Nella nostra Regione, per esempio, a ripartire per primi, saranno l'indotto dell'Automotive, con la FCA di San Nicola di Melfi, dove è stato già raggiunto l'accordo con le RSA di stabilimento per 5.000 addetti, compreso l'indotto. Poi il settore dell'agroalimentare caseario, con 10.000 lavoratori, ma solo se il Governo darà l'ok. Prudenza, programmazione, 120.000 mascherine al giorno e quanto serve alla Basilicata, secondo la CISL, per organizzare la fase 2 dell'emergenza sanitaria. Ce ne parla Luigi Santopietro. I dati sull'andamento del contagio in Basilicata, confortanti, ci inducono a un certo ottimismo. Uno spiraglio di luce. Il segretario generale della CISL regionale, Enrico Gambardella, mostra un moderato ottimismo, ma guarda anche oltre. Cosa serve alla Basilicata per ripartire? Attenzione, prudenza e soprattutto dispositivi di sicurezza. Servono non meno di 120.000 mascherine al giorno per la ripartenza delle attività produttive. La stima prudenziale è del centro studi della CISL Basilicata, che ha incrociato i dati di Union Camere e IMSS su aziende occupati in regione e stilato un documento di raccomandazioni per affrontare, nel migliore dei modi, la fase di riavvio del motore produttivo della regione. Le mascherine dovranno poi diventare 200.000 al giorno, nel momento in cui si passerà al pieno regime. Un volume di dispositivi non propriamente esiguo. Nel documento si specifica inoltre che al volume già importante di mascherine vanno aggiunti 30.000 misuratori elettronici della temperatura, oltre a guanti e gel disinfettante. Uno sforzo organizzativo che la CISL definisce titanico, di cui la richiesta del sindacato alla regione di convocare un tavolo di confronto per mettere a punto un cronoprogramma della fase 2 e un piano di approvvigionamento di dispositivi di protezione, ad oggi però molto difficili da reperire. Gambardella chiede l'intervento regionale perché l'approvvigionamento e la distribuzione dei DPI è un onere che non può essere assegnato alle sole imprese e avvisa. Ogni disattenzione sul tema della prevenzione potrebbe farci ricadere in una condizione in cui potremmo essere costretti a richiudere tutto e a ritornare alle vecchie misure di contenimento di un'epidemia che ci ha tenuti per troppo tempo tutti quanti a casa. Ed ora ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità. La moda, lo stile e il buon gusto sono un modo per prenderci cura di noi stessi. Ora, per volerci davvero bene, dobbiamo rimanere a casa. Rimaniamo a casa. Redford Seconda parte del nostro Tg che si apre con la cronaca giudiziaria. A rivelazione del segreto d'ufficio e favoreggiamento questi reati contestati dalla Procura di Perugia all'ex capo dell'ufficio GIP del Tribunale di Potenza Luigi Spina nell'ambito dell'inchiesta che ruota attorno alle nomine per i vertici della Procura di Roma e vede al centro il pubblico ministero ed ex membro del CSM Luca Palamara accusato di aver messo le sue funzioni di magistrato a disposizione dell'imprenditore e suo amico Fabrizio Centofanti in cambio di viaggi e regali. La Procura Umbra ha notificato ieri anche al magistrato Lucano d'adozione l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Le contestazioni a carico di Spina risalgono al periodo in cui il magistrato ricopriva l'incarico di consigliere del CSM dal quale si era dimesso proprio in seguito alla sua iscrizione nel registro degli indagati. Secondo l'accusa, Spina avrebbe informato il PM Palamara sugli sviluppi dell'indagine a suo carico rivelandogli i contenuti della nota in merito pervenuta al CSM e rivelato allo stesso PM l'esistenza di un esposto indirizzato contro gli allora vertici della Procura capitolina. E sempre a causa dell'emergenza coronavirus slittano ufficialmente al prossimo autunno le elezioni amministrative nonostante la contrarietà di alcune regioni. In Basilicata sono una ventina i comuni interessati su tutti Matera ma vediamo gli scenari delineati dal governo nel servizio di Alessandro Panuccio. Come ipotizzato nelle scorse settimane dalla nuova arriva dal Consiglio dei Ministri rinvio ufficiale all'autunno delle elezioni regionali e amministrative anche se quattro regioni spingono per il 12 luglio. Se in Basilicata il governo regionale è stato rinnovato un anno fa erano sette le regioni chiamate alle urne a maggio cioè Veneto, Liguria, Campania, Toscana, Marche, Puglia e Valle d'Aosta ma al voto devono tornare anche più di mille comuni tra questi figurano 21 centri lucani ovvero il 16% del totale una delle tornate meno numerose ma resa molto interessante dal rinnovo del Consiglio Comunale di Matera unico centro superiore ai 15.000 abitanti. Gli altri 20 comuni sono spalmati 13 nel Potentino e 7 nel Materano spiccano a Vigliano dove c'è attesa per il doposumma o Senise che arriva all'appuntamento con l'ente commissariato stessa sorte per Lago Negro e San Giorgio Lucano con quest'ultimo alle prese in queste settimane con uno dei focolai del coronavirus un po' come Moliterno dove Tancredi da un mese sta fronteggiando la zona rossa in uno dei comuni lucani più contagiati dalla pandemia curiosamente al voto sono chiamate anche Irsina e Salandra due dei centri più colpiti dal Covid-19 alle urne anche la Tursi del vulcanico Cosma Montalbano guidata dal presidente della provincia di Matera Marrese Tolve, feudo del senatore leghista Pepe e Francavilla dove Romano Cupparo era subentrato al cugino Franco divenuto assessore regionale dieci mesi fa la finestra prevista per le amministrative è stata fissata da 15 settembre al 15 dicembre il governo, come ha detto il ministro d'Inca vorrebbe però fissare un unico election day che comprenda anche il referendum sul taglio dei parlamentari per una domenica di fine ottobre o il 18 o il 25 Immigrati irregolari sulla questione torna la CGL di Matera che chiede alla regione di intraprendere un confronto con il governo finalizzato alla loro regolarizzazione per il segretario provinciale Nicoletti il provvedimento avrebbe un'importante valenza per la riduzione del rischio di esposizione al contagio per il contrasto al lavoro nero e per garantire l'accesso al sistema delle tutele degli ammortizzatori sociali a migliaia di lavoratrici e lavoratori che si trovano attualmente in condizioni di estrema difficoltà inoltre risolverebbe anche l'emergenza dovuta alla mancanza di mano d'opera che rischia di compromettere sia le coltivazioni che i raccolti condizionare i cicli produttivi e determinare la perdita di fette di mercato con il rischio di compromettere la stessa sopravvivenza delle aziende agricole per il sindacato il rilancio di un settore strategico qual è l'agricoltura passa attraverso interventi che mirino a regolarizzare stabilizzare e contrattualizzare il mercato del lavoro ed è tutto per questa edizione grazie per essere stati con noi a tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata